Questa è forte, tenetevi per tutte le femministe in ascolto, ubbidienza, tra parentesi ha un leader che vi protegge e che si prende cura di voi. L'ubbidienza è molto importante per le donne. Allora, si dice in inglese, spero che lo parliate, tanto so che non ho capito l'inglese, che un uomo dimostra amore prendendosi un impegno, la donna dimostra amore sottomettendosi e essendo ubbidiente all'uomo che si è preso l'impegno con lei.